Il filosofo francese Frédéric Gros, nel suo libro Andare a piedi, filosofia del camminare, parla del camminare come un'esperienza universale che da un lato ci restituisce alla dimensione del tempo e ci consente di guardare dentro noi stessi e dall'altro ci offre l'opportunità di tornare a godere dell'intensità del cielo e della forza del paesaggio. Uscire all'aperto, andare fuori per conquistare la libertà di chi rinuncia a tutto tranne che all'essenziale. Questo è lo spirito di Viandanza, una serie di viaggi e eventi come forma di rappresentazione metaforica del movimento hospice e delle cure palliative. Entusiasmati dall'esito della prima viandanza, gli organizzatori hanno esteso l'esperienza alle cinque province delle Marche. Domenica 17 maggio è stata la volta di Fossombrone e della Gola del Furlo, una delle mete turistiche più note della regione. Un percorso di 8 chilometri di livello turistico da percorrere in tre ore immersi nella natura. Allora, la Gola del Furlo è un posto molto conosciuto, per me è la prima volta, però già da quello che ho capito non andrò a fare un'esperienza di novità, ma è come se andasse incontrare l'eterno. Le pietre, l'acqua del fiume, l'acqua che troveremo lì alla Gola e questi elementi primordiali che ci permettono di fare questa esperienza di eternità per quanto riguarda la nostra condizione umana. In questo momento sento proprio quella cintilla del presente che è l'esperienza di eternità che è a nostra portata di mano. L'ospice di Fossombrone ha aderito al Festival del Sapervivere e quindi a tutto il movimento di riflessione che ispira anche questi percorsi a piedi. Questa è la prima camminata ufficiale che facciamo da Fossombrone, come ospice di Fossombrone abbiamo aderito al Festival del Sapervivere fino alla fine, abbiamo bisogno di avere vicino la società civile, abbiamo bisogno di avere vicino tutta la cittadinanza, per cui ringraziamo il CAI che ci è stato vicino e che ci ha aiutato a organizzare questo evento che è un po' metafora, un camminare, un liberarci di tutte le nostre ansie e preoccupazioni e per affrontare insomma quella che è la vita fino alla fine. Quindi grazie al CAI, grazie a tutti coloro che partecipano, che vedo che sono tanti e superano le nostre aspettative. Di nuovo grazie.